La spia rossa dell'emergenza resta accesa e anche a Caserta il tecnico del Foggia Mirko Cudini dovrà fare i conti con tante assenze. La squadra dopo tre giorni di riposo ha ripreso nel pomeriggio di ieri gli allenamenti ma al pinto lunedì sera l'allenatore rossonero, se tutto andrà bene, ritroverà solo il centrocampista Marino pronto a tornare tra i disponibili. Con lui si lavora per rimettere a disposizione anche Antonacci e Schenetti, restano invece ancora fermi ai box Dinoia, Rizzo, Vacca e Beretta. Per rivederli in campo bisognerà ancora attendere assenze pesanti a cui si aggiunge quella dello squalificato Tunkara, fermato proprio ieri per un turno dal giudice sportivo in seguito al rosso rimediato venerdì col Latina. Per le scelte tuttavia c'è tempo, la squadra si allenerà fino a sabato al campo FGC e domenica pomeriggio sosterrà la rifinitura allo Zaccheria. A Caserta il Foggia sarà accompagnato da 350 tifosi, tanti sono i biglietti a disposizione dei supporters rossoneri. Da domani pomeriggio intanto sarà possibile sottoscrivere presso i botteghini dello stadio Zaccheria la Fidelity Card necessaria per l'acquisto dei tagliandi delle trasferte.